Ladri in casa all'ora di cena. È successo ieri sera a Danzano del Parco in via del Lazzaretto intorno alle 20. I malviventi sono entrati nella villetta dopo aver rotto il vetro di una finestra e i padroni di casa, rientrando nell'abitazione, si sono trovati di fronte ai ladri che scappavano. Il marito ha quindi provato a inseguirli e a fermarli, ma uno dei ladri, per assicurarsi la fuga, ha mostrato un coltello. Quindi si sono allontanati per poi scappare in auto. Secondo le informazioni raccolte in queste ore, i malviventi potrebbero aver minacciato anche i cani di casa e nel giardino è stato rinvenuto un bastone. Desolante il quadro trovato dai padroni di casa, un'intera abitazione messa a suo quadro con gli armadi completamente svuotati e gioielli portati via. Quello che non è stato rubato è stato lasciato a terra o distrutto dalla bigiotteria ai soprammobili in vetro. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Cantù. Nelle stesse ore, sempre in Brianza, un altro episodio di cronaca. Questa volta a Brenna dove i carabinieri della tenenza di Mariano Comensi hanno arrestato per rapine impropria un 46enne del paese, accusato di aver minacciato la madre per appropriarsi dell'auto della donna. L'uomo dopo aver strattonato e spintonato la mamma gli ha strappato le chiavi e si è allontanato in auto. Trovato a casa sua è stato arrestato dai carabinieri. L'auto è già stata restituita alla madre dell'uomo che non ha riportato lesioni. Grazie. 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 Grazie.